Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini, accanto alla statua di San Francesco, quanto era legato all'abito di San Francesco Padre Pio, quanto era legato al suo ordine, l'ordine religioso dei frati minori Cappuccini. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive al suo ministro provinciale nel 1910, il 14 marzo, quindi siamo in un periodo in cui il giovane frate Cappuccino si sta preparando alla sua ordinazione sacerdotale che sarà celebrata proprio nel mese di agosto del 1910. Che cosa accadeva? Lui era a Pietrelcina, questa strana malattia che lo costringeva a stare a casa perché una volta che tornava in convento stava male e quindi quando lui spiega e racconta questa malattia voluta dal Signore, lui scrive che si sente aggravatissimo, la febbre continua, i sudori, dolori al torace, nessuna speranza di guarire e lui ha una grande attrattiva verso la morte. Padre Pio scrive, caro Padre provinciale ricevo la sua cara e desiderata lettera, nello stesso tempo anche la sua carità e mi dispiace solo di non avere parole sufficienti per ringraziarla degnamente come ella merita, ma ciò che mi addolora sì è di non poterle attestare questa mia gratitudine proprio col fatto come sarebbe mio desiderio, spero intanto da questa umiliazione che il Signore mi manda a ricavarne un po' di bene. Ella poi brama a sapere lo stato della mia salute, ebbene ecco a soddisfarla, lo stomaco grazie a cielo è quasi da Natale che non rigetta più nulla, mentre per lo innanzi riteneva appena la sola semplice acqua. Anche le forze me le sento alquanto ritornate, tanto da poter camminare per un po' senza tanto incomodo, ma ciò che non vuol lasciarmi sì è la febbre, che quasi tutti i giorni verso sera viene a farmi visita, seguita da copiosi sudori. La tosse poi e i dolori al torace e della schiena sono quelli che più mi martirizzano continuamente. Troppo poi dovrei ringraziare il Signore per la forza che mi dà nell'andare a sopportare con rassegnazione e pazienza tutti questi malori. Da un pezzo in qua sembrami che nessuna cosa di qua giù abbia più alcuna attrattiva per me. L'idea della guarigione dietro tutte queste tempeste che l'Altissimo da su mi manda sembrami un sogno, anzi una parola priva di senso. Al contrario, l'idea della morte sembrami aver tutta la mia attrattiva ed assai vicino a raggiungerla.